Io spero che la Dada non esista più, che i ragazzi possano fare il loro corso di studi in presenza e soprattutto mi auspico che noi si riesca a avviare quel progetto delle scuole sentinella per monitorare lo stato di salute dei nostri ragazzi. Obiettivo scuola, messa da parte la spinosa questione dell'avvio dell'anno scolastico, c'è da pensare al grande interrogativo per il rientro a settembre, un tema delicatissimo e molto complicato in tutte le regioni. Una delle ipotesi messe in campo dal Comitato Tecnico Scientifico in questi giorni è subito oggetto di dibattito e polemiche, ma subito definita impraticabile dallo stesso CTS è quella del Green Pass per assistere alle elezioni in presenza con la Dada per chi non è vaccinato. Per il governatore una strada da abbandonare subito. Non sono d'accordo, nel senso che penso che la scuola deve essere in un ambiente libero e rispettoso delle libertà. Noi dobbiamo invece fare in modo che a scuola non ci vadano quelli che possano portare l'infezione. Resta il fronte della vaccinazione di insegnanti e personale scolastico. In una lettera alle regioni il commissario Figliuolo chiede che vengano individuate delle corsie preferenziali negli hub per incentivare le vaccinazioni dei professori. Bisogna convincere i docenti a immunizzarsi. Lo condivido, come l'appello lo estendiamo anche ai cittadini in senso generale, agli operatori della sanità, ai cittadini tutti. Allora noi stiamo vedendo una cosa, che anche sulla variante Delta, ad oggi quei 27 casi che abbiamo in Veneto, nei cluster, fondamentalmente sono tutti asintomatici. Il che vuol dire che comunque il vaccino qualcosa sta facendo. L'altra arma è il tracciamento della variante Delta. Noi non abbassiamo mai la guardia. Abbiamo fatto questa scelta e siamo gli unici in Italia, in tempi non sospetti, ormai sono già passate tre settimane, su mia volontà di fare tanti tamponi quanti ne farebbe una zona rossa. Noi non siamo zona rossa, siamo zona bianca. E quindi stiamo sostanzialmente utilizzando artiglieria pesante per un nemico che in questo momento non c'è. Un'artiglieria pesante che ha bisogno di armi, cioè le dosi del vaccino. Io non penso che il problema siano i ritardi, il problema siano le quantità. E siccome c'è un contratto europeo che è ridicolo, non è colpa di figliolo, abbiamo un contratto europeo che è ridicolo e ci tocca dire come Veneti che avremo la possibilità di fare almeno 100.000 dosi al giorno e andiamo avanti a scartamento ridotto con 30-40.000 dosi.